ciao a tutti seconda parte anzi secondo dei tre video riguardanti il sistema power stream di eco flow eravamo rimasti alla parte dove abbiamo installato i pannelli la centrale in microinverter i cavi e tutto ora la mettiamo in funzione vi faccio vedere come si accoppia con l'app e da lì accediamo a tutte le impostazioni personalizzazioni anche con le smart plug con la percentuale di carica del delta 2 insomma vediamo un po di cose interessanti mi raccomando iscrivetevi al canale così rimanete connessi per questa mini serie che procede vi ricordo che il terzo video che uscirà tra pochissimo perché già pronto vi farà vedere esattamente cosa sono riuscito a produrre in un mese di utilizzo reale quanto risparmiato e faremo tutte le considerazioni sul ritorno dell'investimento eccetera eccetera adesso andiamo avanti col secondo video vi proverei a collegare la rete e vediamo un po cosa succede ok qui abbiamo il led di stato della power stream che diventa verde fisso l'input della power station è andato a zero in questo momento situazione attuale tutto connesso power station accesa ma non arriva nessuna ricarica mi dà addirittura invece in uscita un consumo di 86 watt ma secondo me tutti questi dati adesso sono da prendere con le pinze a questo punto dobbiamo fare l'aggiunta nell'app della power stream che poi gestirà il tutto apriamo la nostra app ecco flow se non siete registrati creato un account facciamo aggiungi dispositivo ma in realtà ha già trovato una delta 2 che io non aggiungerei farei un aggiunto manuale della power stream quindi accetto ora mi chiede di connettersi al wifi vedete che è diventata blu lampeggiante quindi modalità accoppiamento cerchiamo la nostra rete wifi che deve essere solo 2,4 gigahertz andiamo avanti configurazione internet messaggio inviato al dispositivo connessione del dispositivo alla rete in corso ok trova poi la rete dispositivo associato al telefono andiamo avanti qua chiede nome dello spazio lo chiamiamo casa fine qua mi dà adesso un'informazione mi dice dopo aver impostato la bolletta elettrica puoi controllare la montata del risparmio solare e diamo capito perfetto configura costo kilowattora andiamo a mettere ad esempio nel mio caso 0 20 andiamo conferma in euro e l'abbiamo impostato qui vedete che la schermata cambia la vedete poi grossa qua a sinistra intanto sul display della power station segna un ingresso di ricarica di 80 watt la generazione dove abbiamo la generazione totale quindi dall'attivazione di questa mattina il picco che abbiamo raggiunto quindi con uno storico e anche i valori in euro questo nel giorno nella settimana nel mese o nell'anno energia solare adesso stanno arrivando 182 watt mi dice che nella batteria sta mandando 80 watt e in questo momento mi sta dando solo 100 watt nell'alloggio perché abbiamo appunto impostato questi 100 watt allora entriamo un secondo intanto nelle impostazioni e vedete che mi notifica subito un aggiornamento firmware io lo farei perché passiamo dalla 1 1 0 2 alla 1 1 3 36 quindi probabilmente ne hanno fatto anche già più di uno lo lancio e attendiamo il progresso ok aggiornamento che è abbastanza veloce la power stream adesso verosimilmente si riavvierà attendiamo un attimo vedete che il sistema è offline usciamo un attimo dall'app proviamo a riavviarla continua a notificarmi la versione firmware quindi facciamo partire di nuovo l'aggiornamento vedete che ora è partito perché va in modalità aggiornamento con il led viola lampeggiante adesso andremo poi a installare anche una smart plug per fare delle prove non vi avevo detto che sono tra l'altro compatibili con matter e che sono da 10 ampere massimo 2500 watt luna mi notifica che la power stream ora è aggiornata si sta riconnettendo torniamo indietro si sta riavviando perché fa anche dei messaggi sonori ok proviamo ora a mettere una smart plug e vedere come aggiungerla basta semplicemente metterla nella presa viene subito trovata dal telefono premiamo aggiungi di nuovo dobbiamo connettere anche lei al wifi 2.4 andiamo avanti medesima procedura configurazione della smart plug completata andiamo un attimo nelle impostazioni della presa vediamo se ci sono aggiornamenti si farei anche subito questo ok anche la presa l'abbiamo aggiornata ora è disconnessa la troviamo nella home insieme agli altri dispositivi quindi conviene subito rinominarla per distinguerla se magari ne avete due questa la chiamiamo presa 1 abbiamo la possibilità di impostare anche la protezione da sovraccarico quindi possiamo abbassarla luminosità dell'indicatore che può essere al 50 o al 100 e lo tiene memoria firme funzioni di laboratorio sono delle nuove opzioni come la possibilità di creare una piccola rete mesh tra i dispositivi per ampliarne la portata null'altro allora in questo momento è spenta vedete che abbiamo modo di accenderla possiamo fare la programmazione di accensione spegnimento tutto quello che facciamo con le solite prese smart e abbiamo anche la possibilità di dare un'accensione ritardata però quello che ci interessa è capire che dentro la gestione della power stream possiamo tornare nella richiesta di alimentazione in uscita e possiamo dare ad esempio 500 watt poi possiamo andare a gestire l'alimentazione dei carichi ci dice che per utilizzare completamente l'energia generata dal pannello solare stimare l'energia dei carichi domestici non collegati alla prese smart e impostare la richiesta di alimentazione di conseguenza torniamo alla schermata principale adesso stiamo vedendo che sta mandando in rete 500 watt perché abbiamo impostato 500 watt ma dai pannelli ne stanno arrivando 216 quindi cosa vuol dire vuol dire che gli altri 288 li sta prelevando dalla batteria fin qui funzionamento ottimale se andiamo in spazio abbiamo il controllo diciamo generale di cosa sta succedendo in casa come fosse un impianto fotovoltaico tradizionale che sta generando 200 watt che sta mandando in casa con 500 watt che stanno arrivando anche dalla batteria ecco credo che in questo caso questa visualizzazione grafica non sia corretta ma se entriamo in questa schermata abbiamo una visualizzazione più corretta infatti dai pannelli stanno arrivando 216 watt dalla batteria 287 watt batteria che è al 18 per cento e la smart plug in questo momento consuma solo un watt perché è spenta se io invece adesso vado ad abilitare la smart plug vedete che mi dà un consumo di 46 watt e possiamo vederli più nel dettaglio entrando nelle specifiche della presa smart che avrà poi tutto lo storico di consumi giorno settimana mese anno questo cosa vuol dire vuol dire che posso decidere come gestire quello che produce il fotovoltaico e quello che prende dalla batteria se ancora accumulo per capire quanta energia mandare nella rete se io torno nelle impostazioni andiamo ad abbassare a 50 watt e lo salviamo vedete che il comportamento cambia completamente perché in questo momento i pannelli mi stanno dando 240 watt la power stream come li sta gestendo ne sta mandando 145 per caricare la batteria e i 95 che servono nell'impianto perché io gli ho detto di prenderne solo 50 per la rete e in questo momento la smart plug ne sta tirando 44 me li manda in uscita quindi tutto quello che produce in più me lo manda dentro la batteria per caricarla il funzionamento è ideale è quello di un fotovoltaico a casa grosso con l'accumulo ma qui possiamo gestire anche le percentuali di potenza da mandare da una parte piuttosto che da un'altra e questa non è assolutamente una cosa da poco ora sono le 11 e 35 i pannelli non sono ancora completamente al sole sempre da questa schermata mi sono dimenticato di farvi vedere che possiamo gestire direttamente la presa smart se abilitarla o non abilitarla e vedete che il consumo scende a un watt che è quello poi della presa stessa perfetto ora abbiamo dato un'infarinata come funziona l'app non è difficile però magari capisco che per chi non è molto abbezzo non è semplicissimo da capire al volo come funziona ma vi garantisco che una volta che ce l'avete in mano e iniziate a smanettare con l'app capirete da soli automaticamente come gestire meglio quello che producono i pannelli torniamo però all'applicazione perché vi faccio vedere una cosa un po più carina perché ho aggiunto poi la seconda presa ho aggiunto anche il delta 2 separato dalla power stream dentro l'app e guardiamo qualcosa di carino ok poi intanto sono passati i giorni ho avuto modo di conoscere meglio l'ecosistema e vi faccio vedere qualcosato interessante innanzitutto quando fate la ricerca dispositivi prendete anche la delta 2 come dispositivo singolo fuori dall'ecosistema del power stream perché vi farò vedere che può servire per altre cose ho aggiunto anche la seconda presa quindi in questo momento no 2 che ho collegato all'alimentazione della video sorveglianza e in questo caso una zanzariera elettrica perché vi faccio vedere questa schermata perché ad esempio nella gestione delle automazioni qua sotto potete impostare degli scenari delle cose che avvengono in automatico tipo nuova automazione noi possiamo dire che se un dispositivo come ad esempio il delta 2 ha un livello della batteria superiore o inferiore a una percentuale quindi io posso decidere di alimentare un determinato dispositivo solo se la batteria ha una percentuale superiore al mettiamo 10 per cento quindi questo cosa vuol dire che con questa condizione io possa decidere di alimentare un qualsiasi dispositivo che non è per forza collegato direttamente alla eco flow delta 2 ma collegata a una di quelle prese che abbiamo montato in casa solo quando sta lavorando con la batteria dell'accumulo questo perché perché noi potremmo scegliere ad esempio di tenere acceso un qualcosa di notte che è sì collegato all'impianto di casa ma in realtà viene alimentato da quello che abbiamo nella batteria perché andiamo a scalarlo da quello che consumerebbe prelevando dalla rete quindi se la batteria è superiore al 10 per cento poi azione possiamo prendere un dispositivo come la videosorveglianza e attivarlo in questo caso abbiamo creato un'automazione che mi permette di tenere accese le telecamere solo quando c'è batteria praticamente gratis abbiamo poi degli scenari che possiamo ad esempio attuare delle automazioni con un tocco e accendere magari le due prese contemporaneamente abbiamo la possibilità di fare delle programmazioni con degli orari e abbiamo addirittura la possibilità di seguire il meteo quindi con una temperatura esterna o con una condizione meteo decidere se attivare o non attivare una presa in automatico possiamo decidere che solo quando c'è bel tempo quindi quando i pannelli producono va ad alimentare un carico questa è una cosa che magari poi nel tempo verrà anche ampliata come opzioni ma che può essere utile quindi i nostri quattro dispositivi diamo di nuovo un'occhiata alla power stream perché non abbiamo analizzato bene tutti i parametri dunque oltre al nome abbiamo la possibilità di modificare la luminosità del led il led che c'è sulla power stream questo non è un dettaglio da poco perché io all'inizio l'avevo montata nella camera diretta nella cameretta di mio figlio e il led troppo luminoso dava fastidio vi consiglio però di non metterlo mai a zero perché se no non vedete se per caso ci sono errori metodo di alimentazione allora qui possiamo dare priorità all'alimentazione quindi lui darà sempre la priorità ai carichi o dare la priorità all'accumulo della power stream io lo tengo come priorità all'alimentazione ma poi lui comunque ci farà decidere altro la richiesta di alimentazione l'abbiamo già vista i limiti di carica e scarica della batteria che possiamo personalizzare ecco qui abbiamo l'impostazione della tariffa elettrica questo lo vedremo poi nell'ultimo video per capire i reali risparmi nella configurazione di rete va semplicemente a dirvi se il dispositivo è correttamente assegnato nella vostra rete come indirizzo ip sia per quel che riguarda power stream che le due smart plug perché vedete che nella casella online abbiamo tutto quanto nell'offline nulla non ho più avuto aggiornamenti firmware dopo averne fatti un paio in accensione ma credo siano serviti perché avevo notato che all'inizio era un po più instabile a tenere il wifi e a gestire alcune impostazioni dopodiché torniamo sempre al discorso spazio dove abbiamo la visualizzazione generale dell'impianto in questo momento sto generando 340 watt sto consumando i 150 che ho impostato il resto me lo sta mandando in batteria quindi 327 155 li manda in rete di cui 150 su altri carichi quindi non prese e le due smart plug proviamo ad attivarle quindi attivo la video sorveglianza vedete che sale il consumo e attivo anche la zanzariera e vedete che sale il consumo anche qui in questo momento le due smart plug stanno prendendo 50 watt quindi avendo impostato che deve mandare in casa 150 watt lui mi dà comunque quello che serve alle smart plug se avanza ancora qualcosa lo manda in batteria vedete che c'è il consumo rete elettrica io non so se hanno già predisposto il sistema per avere poi un misuratore per gestire il carico di tutta la casa non c'è ancora il prodotto non si può fare con le smart plug me l'avete chiesto in tanti vedremo se ci saranno aggiornamenti a livello di un qualcosa che possa effettivamente permetterci di fare sia l'immissione zero che gestire meglio la produzione e la destinazione dell'energia in base a quanto sta consumando tutta la casa e non solo i dispositivi connessi alle smart plug e come funziona invece di sera sono le 19 31 andiamo a dare un'occhiata alla situazione dunque in questo momento abbiamo la batteria al 79 per cento dal solare non sta arrivando nulla i miei 150 watt impostati vengono mandati in rete dalla batteria ne vengono prelevati circa 160 quindi qualcosina in più perché in mezzo ci sarà il consumo di qualche watt che magari viene disperso per strada dal micro inverter questo perché abbiamo impostato una richiesta di alimentazione domestica di 150 watt quindi mi scaricherà tutta la delta 2 tutto l'accumulo fino arrivare allo zero per cento che si spegne il sistema domani mattina che esce il sole si riaccende e inizia a produrre e inizia a distribuirla o immagazzinarla in base a come abbiamo programmato l'impianto e anche col secondo video abbiamo finito mettiamo in pausa il discorso tra pochissimo vi prometto che esce quello finale app che comunque funziona bene devo essere sincero ho avuto dei problemi con i firmware soprattutto quelli vecchi i primi che c'erano non riuscivo bene a connettermi al wifi ogni tanto l'app non rispondeva questo ve lo devo segnalare ma vi devo anche dire che da quando ho fatto gli ultimi aggiornamenti per ora è tutto stabile e funziona molto bene una cosa che non vi ho detto nella fase dell'installazione neanche in questo secondo video ma ve lo dico adesso ho notato che lasciando la power stream sopra il delta 2 probabilmente con il calore eccessivo che generavano entrambe ogni tanto me la dava offline ed ero dentro casa e ho notato che non rimanendo così al caldo sopra il delta 2 l'ho messa a fianco per terra lavora molto meglio non si è mai più disconnessa cercate di appenderla al muro non come avevo erroneamente fatto nel primo video perché secondo me può dare problemi di surriscaldamento grazie a tutti alla prossima di questa serie al prossimo video di qualcos'altro ci potremmo vedere anche la prossima diretta o se passate negozio in provincia di torino ciao da massi dattoli